Ci sono pezzettini questi e questi e tagliano questo pezzo qua e cade la lefa, la resina è molto dolce e questo è quello che abbiamo mangiato a Bago madonna mia non è cosa divertibile ci hanno messo loro i fiori nella palla e la sopra ci sono questi contenitori di terracotta il colore nero perché devono prima mettere su fuoco questi contenitori se no si fermenta tutto vedi, vedi che cade un goce si nota così la sopra ci sono i fiori di terracotta la sopra ci sono i fiori di terracotta ma è stato melanchitato la sopra ci sono i fiori di terracotta Sì, stai filmando tu per me o film di un foto? No, film di un foto. Chi sta filmando Sam? Sì. 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 Ecco, la limpa è questa qua e già questo è dolce, potete assaggiare. Sì. Quindi questa limpa fanno bollire e poi quando diventa denso fanno le palline. Sì, basta. Questo è cioccolato birmane. Si, chiamano zucchero di palma. Però io ho inventato il nome cioccolato perché è dolce.